Le donne raccontano i mestieri del cinema è il tito della tavola rotonda che si terrà il 2 dicembre dalle 9.30 alle 12.30 nell'auditorium del Museo Revoltella di Via Diaz 27, nato da un progetto della Commissione Pari Opportunità del Comune in collaborazione con l'Associazione Espansioni e con la Casa del Cinema di Trieste. L'iniziativa è stata presentata stamane dalla Presidente della Commissione Pari Opportunità Ornella Urpis, Esther Pacor, di Espansioni e Chiara Omero della Casa del Cinema e Donatella Bigotti, dirigente scolastico dell'Istituto Nautico di Trieste. La Presidente Urpis, portando il saluto della Vice Sindaca con delega alle Pari Opportunità Fabiana Martini, ha spiegato le finalità dell'iniziativa del 2 dicembre che rientra nell'ambito del progetto Cielo e Mare nel Cuore delle Ragazze della Commissione Pari Opportunità, teso a favorire gli sbocchi professionali delle ragazze nelle scuole superiori e che è già stato portato avanti dall'Istituto Nautico e dalla Neo Accademia Navale con notevole numero di adesioni, realizzato da Casa del Cinema in collaborazione con Espansioni. Un percorso indirizzato specificatamente alle donne da un'idea di Anna Maria Percavassi, Esther Pacora e la CPO del Comune, che ha portato alla realizzazione di un nuovo progetto ancora più centrato sul mondo femminile ed intitolato appunto Le donne raccontano i mestieri del cinema. Un momento di incontro e di confronto per raccontare i mestieri che di solito sono prerogativa degli uomini perché prettamente tecnici. L'obiettivo della Casa del Cinema, come ha sottolineato Chiara Omero, è riuscire a garantire un organismo tecnico per il cinema e le sue numerose attività a Trieste, legato anche alla formazione, per realizzare quindi uno progetto unico grazie alle numerose collaborazioni in corso, tra cui con il Festival del Cinema di Trieste, la Film Commission e il Miela, e per aiutare i ragazzi a conoscere tutti i mestieri del mondo del cinema, dalla sceneggiatura alla regia alla dizione, per comprendere cosa succede in un film dall'inizio alla fine, anche grazie alla crescita di interesse e allo sviluppo del comparto.